Siamo nel 1970, ci troviamo negli anni 70 del novecento circa, e un medico in ortopedia, Stephen Levin, si trovò a collaborare con dei paleontologi che avevano fatto una scoperta importante, avevano scoperto degli scheletri di dinosauri molto ben conservati e molto completi. Durante questa collaborazione si accorse che c'era qualcosa di strano. Secondo la teoria delle leve, che era molto in voga in quegli anni, la loro struttura non avrebbe potuto reggere la massa dei dinosauri stessi. Facciamo un passo in avanti, negli anni 80, sempre del novecento, venne fatto un esperimento che è stato pubblicato su Engineering in Medicine, in cui una donna, ad una donna venne applicato un peso che era pari al doppio del suo corpo. Questo studio serviva per studiare la variabilità degli spazi interossei a livello articolare. Si accorsero che non cambiarono minimamente, rimasero esattamente uguali. Tutto questo, questi due fenomeni, si possono spiegare attraverso un fenomeno che si chiama tensegrità. Nel caso delle strutture vive, delle strutture biologiche, viene chiamata poi biotensegrità. Ciao a tutti, io sono Yarno Rainieri, faccio parte del corpo docenti della scuola di massaggio Lumen Wellness Academy e oggi parleremo di questo principio, di come questo principio interagisce nella nostra vita tutti i giorni e di come noi operatori possiamo sfruttare questo principio per dare ai nostri trattamenti un accento più, potremmo dire, più completo, un accento più olistico. Che cos'è la tensegrità? La definizione di tensegrità è la capacità di una struttura di opporsi alla gravità, mantenere forma ed armonia consumando la meno quantità di energia possibile. In una struttura tensegritiva ogni componente, ogni singolo componente, influenza tutti gli altri. Il termine venne coniato negli anni 40 del 900 da un architetto, Buckminster Fuller, che cercava un nuovo modo di costruire che fosse più in sinergia con la natura che ci circonda. e scoprì che in natura tutte le strutture esistenti seguono questo principio, il principio di tensegrità. Quindi il concetto è che il comportamento di un sistema non è dato dalla somma delle singole parti ma dalle loro interazioni. Quindi potremmo dire che tensegrità è uguale a collaborazione e sinergia tra tutte le parti che compongono una struttura. La tensegrità riguarda tutto, dai pianeti del cosmo fino all'atomo. Addirittura la cellula è stato scoperto che nella sua struttura segue anch'esso questo principio. La vecchia visione del corpo umano diceva che le ossa scaricano il peso a terra e i muscoli sono le leve che muovono questa struttura. Esiste una postura perfetta e la postura è data da degli input sensoriali corretti. Con l'arrivo del concetto di tensegrità questa visione è cambiata, si è modificata. Il nuovo paradigma dice altro. Dice che la postura segue un principio di tensegrità. Quindi non dipende solo dalle percezioni sensoriali, quindi dalla propriocezione ad esempio, ma anche da come le informazioni vengono gestite dal nostro organismo, sia che esso sia corpo o mente. Adesso facciamo un piccolo passo indietro. La tensegrità della nostra struttura. Adesso se parliamo del corpo umano. Il concetto di tensegrità è data dalla collaborazione tra tutti i grandi sistemi del nostro corpo. Quindi partiamo innanzitutto dall'apparato osseo che è un po' la nostra impalcatura, quindi ci mantiene la forma, protegge alcuni organi del nostro corpo e assieme ai muscoli appunto muovono questa struttura. Ma c'è di più. In realtà i muscoli non sono solo delle leve, ma collaborano assieme al nostro apparato osseo per contrastare quelle che sono le informazioni, quelle che sono le sollecitazioni che la nostra struttura potrebbe avere. In realtà poi non sono solo i muscoli, ma aggiungiamo un'altra struttura che è la struttura fasciale. Assieme ai muscoli creano, collaborando appunto con l'apparato osseo, creano questa sinergia. Quindi le ossa sono delle strutture che sono in compressione, che collaborano con la struttura miofasciale, che è una struttura in trazione e quindi compensano continuamente. Un esempio che posso farvi per vedere un po' anche nella vita di tutti i giorni, un esperimento che potete fare voi tranquillamente, un'osservazione che potete fare tranquillamente per vedere come funziona il concetto di tensegrità, ad esempio, è attraverso la camminata. Se noi pensiamo al gesto del camminare, in modo semplicistico potremmo dire che è mettere un passo davanti all'altro per arrivare da A a B. In realtà c'è molto di più. Quando noi camminiamo, mettiamo un passo davanti all'altro, ma segue tutta una serie di movimenti che il nostro corpo attua per rendere il nostro andare armonico e in equilibrio. Quindi dobbiamo pensare che le anche, quindi la nostra vita, le anche, eseguono una rotazione, l'avanzamento anche delle spalle, le braccia che ondeggiano. Poi a seconda del nostro stile di camminata anche la testa si muove. Quindi tutto concorre per permetterci di muoverci nello spazio in un modo equilibrato, efficiente ed efficace. Questo ad esempio è un concetto di tensegrità. Tutta la struttura si adatta. Poi tutto questo può cambiare, non è sempre uguale, ma cambia ad esempio anche a seconda del terreno su cui cammino. Quindi se cammino su un terreno ghiaioso o su un terreno accidentato o in salita o in discesa rispetto a un terreno pianeggiante il mio tipo di camminata cambia. E com'è che cambia? Cambia perché gli input sensoriali che arrivano al mio corpo cambiano, sono diversi. Quindi input visivi, vedo un ostacolo, ma anche gli input che arrivano dalla pianta del piede ad esempio. Quindi sento un terreno accidentato e cambio il mio modo di camminare. Quindi aggiungiamo un altro elemento. La collaborazione non è più soltanto tra apparato osseo, muscolare e fasciale, ma anche entra il sistema nervoso. Quindi la nostra propria sezione, i nostri organi di senso concorrono per gestire questo principio. Già questo come operatori ci può dare un piccolo input per quanto riguarda i trattamenti che facciamo sui nostri utenti. Quando ad esempio arriva una persona che ha uno squilibrio ipoteticamente ad una spalla, la spalla destra gli fa male, è contratta eccetera, potrebbe essere dato da un cambiamento di postura dovuto a cosa? Dovuto ad esempio ad una distorsione alla caviglia sinistra. Quindi cosa succede? Che questo tipo di stimolo ha portato un adattamento di tutto il sistema, sempre per tensegrità, che ha portato poi per compensazione in sofferenza una parte che in realtà è molto lontana. Quindi in questo caso, conoscendo il principio che regola la tensegrità, noi invece di fare l'errore che a volte si fa di accanirci sulla spalla per rilassarla, eccetera, eccetera, possiamo andare a lavorare direttamente alla fonte di quello che è stato lo squilibrio all'inizio. Quindi la tensegrità è legata anche alla postura. Ma che cos'è che regola poi la postura? e anche qua possiamo mettere un tassello in più. Provate a guardare la postura, pensiamo alla postura di una persona depressa, che avrà una postura di un certo modo, tenderà ad essere chiusa, testa bassa, passi lenti e così via, rispetto ad esempio alla postura di una persona che ha appena trovato l'amore della sua vita, per ipotesi, quindi avrà una postura diversa. La postura di un introverso rispetto ad un estroverso. Quando si dice uno che prende di petto, che prende il mondo di petto, la vita di petto e così via, o mi sento schiacciato dagli eventi. È chiaro che in questo caso ci dice che la postura dipende anche dal mio vissuto psico emotivo. Quindi le mie emozioni, il modo in cui io affronto la vita, incide in modo importante anche sulla mia postura. Quindi andiamo a mettere un tassello ulteriore. Quindi tutto concorre a livello di tensegrità a regolare gli equilibri dell'organismo, della mia struttura. Tensegrità, quindi collaborazione e sinergia tra tutte le parti, tra tutti i grandi sistemi. Quindi apparato osseo, muscolare, nervoso, circolatorio e anche psico emotivo. Vi porto qua un paio di esperienze che ho avuto, nella quale ho potuto, conoscendo un po' di base questo principio, che mi ha aiutato con degli utenti che ho dovuto trattare in passato. C'è stata una persona che aveva un forte mal di schiena, un forte mal di schiena alla zona lombare. Prendeva farmaci perché non riusciva ad uscirne, in poche parole faceva fatica a stare in varie posizioni, faceva fatica a stare seduto, camminava con difficoltà e per farselo passare prendeva i farmaci che normalmente si prendono in questo caso. Quando è entrato nello studio ho iniziato a parlare con questa persona, due chiacchiere semplici, però per cercare di capire quale fosse l'approccio più adatto per poter aiutare a riequilibrare a livello funzionale la sua struttura, in questo caso. E riuscì a vedere che questa persona era una persona che tendenzialmente era molto ansiosa, affrontava la vita, tutto era difficile, tutto era un'ansia continua, passava da uno stato ansioso all'altro. Quindi la prima cosa che feci era di abbassare ulteriormente le luci all'interno dello studio, quindi creare un ambiente ancora più accogliente e cercare di rallentare un po' quello che era tutto il pensiero, che tutti i pensieri che aveva in testa in quel momento. Lo feci sdraiare sul lettino e piano piano gli feci prendere una posizione che alla fine diventò una posizione fetale. La posizione fetale normalmente è una posizione di grande sicurezza, è la posizione del bambino all'interno del feto della madre ed è la posizione in cui l'80-90% delle persone dorme normalmente, quindi una posizione di grande sicurezza e iniziai a fargli un trattamento. Il trattamento che gli feci in realtà non era niente di estremamente specifico, era qualcosa più che altro di rilassante e mi accorsi che il suo modo di parlare iniziò a cambiare. Iniziò a parlare sempre più lentamente, smise di parlare, si rilassò e alla fine riuscì a fargli prendere anche posizioni diverse. Riuscì a farlo sdraiare la pancia in su ma questo è molto relativo. In questo caso che cosa feci? Utilizzai il concetto di tensegrità al contrario, quindi se il suo vissuto psico emotivo, il suo modo di affrontare la vita portò nel tempo a delle tensioni interne che poi sfociarono in questo forte mal di schiena, sfruttai la posizione del corpo, quindi una posizione di sicurezza per riuscire a calmare tutta quell'ansia che lui stava vivendo dentro, quindi a lasciare andare questo stato ansioso e poter rilassare anche il corpo, poter rilassare quella parte che stava dando problemi. Devo dire che questo cliente non è più tornato. Non è più tornato perché poi ho saputo da lui che per un lungo periodo non ha più dovuto prendere questi farmaci, ne ha avuto un beneficio per un periodo piuttosto lungo. È chiaro che non ho risolto il suo problema. Anche parlando di tensegrità, parliamo di collaborazione e sinergia, anche quando facciamo un trattamento, la collaborazione e la sinergia con diverse tecniche, diversi tipi di trattamento, aiuta la persona ad uscire dal suo stato. Quindi va bene il massaggio, ma è chiaro che se questa persona non intraprenderà un cammino di rieducazione rispetto al suo porsi nella vita, al suo modo di vivere, gli stimoli che gli arrivano dalla vita, prima o poi è chiaro che ritornerà al punto di partenza. Ma in una situazione del genere quello che possiamo fare è rendere la qualità della vita di questa persona meglio di quando è entrata. Un'altra esperienza molto interessante che ho avuto, anche se l'ho realizzata dopo in questo caso, era di una persona che aveva un forte blocco a livello intestinale. Le provò di tutte e non riusciva a sbloccarsi, era abbastanza al limite. Poi quando l'intestino non funziona, anche a livello muscolo-scheletrico, sempre per l'insegrità in cui un elemento stimola tutto l'insieme, poi anche la parte muscolare iniziava a dare problemi, mal di schiena, eccetera. Lì mi lasciai più portare da un'intuizione che da l'altro. E intanto che facevo un massaggio a livello addominale, a questa persona iniziai a raccontare delle barzellette. Mi venne in mente delle barzellette, iniziamo a ridere dentro lo studio, fare battute e si rise parecchio. Alla fine in realtà il trattamento che stavo facendo, il massaggio, era semplicemente per mantenere un contatto e per rilassare un po' la zona addominale. Non aveva più in quel caso l'obiettivo di stimolare l'intestino. Questa persona iniziò a ridere, cambiò il suo livello mentale, soprattutto alzò il livello emotivo e la sera stessa l'intestino si bloccò. Non è stato un miracolo, ma capì dopo che a livello di tensegrità, in quel caso, la parte emotiva andò ad interagire con tutto tutto il resto del sistema e quindi si risolse in un rilassamento a livello addominale, un rilassamento a livello intestinale e in quel caso si sbloccò. Anche in quel caso ci tengo a dire che non è che abbiamo risolto il problema. In quel momento sono riuscito a migliorare un po' la qualità della vita di questa persona e abbiamo visto quale potrebbe essere il cammino che questa persona deve fare. Stiamo sempre parlando del modo in cui io mi pongo rispetto agli stimoli che mi arrivano nella vita, quindi una tensione vissuta interiore che non riesco ad esprimere. In una medicina cinese si potrebbe dire un fuoco interiore bloccato. Quando riesco ad esprimerlo all'esterno, quindi scarico questo eccesso che aveva all'interno, poi tutto il resto si è regolato di conseguenza. In Lumen conosciamo molto bene in realtà questo questo principio di tensegrità. Ogni corso di massaggio che proponiamo si basa su questo principio, quindi il principio in cui noi quando lavoriamo con una persona stiamo lavorando non con un segmento, con quel segmento che trattiamo, ma lavoriamo con il tutto, con l'insieme. Ogni nostro corso, anche se con linguaggi diversi, tratta questo questo tipo di principio. Ricordatevi questo è un principio che regola tutto il nostro pianeta e quindi anche noi non facciamo eccezione.